Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vediamo insieme in questo breve video due aspetti del nostro argomento di storia che sono i romani. Il primo riguarda la prima forma di governo che ebbero i romani, che fu la monarchia, e poi il secondo argomento che vediamo insieme è come era strutturata la società romana dell'epoca, quindi le varie classi sociali e come interagivano tra di loro. Quindi partiamo proprio dalla monarchia, la prima forma di governo di Roma. Andiamo ad inquadrare la nostra pagina, che è la pagina 75 del libro, potete seguire con me da pagina 75 fino a pagina 79 del nostro libro. Allora, la monarchia. Innanzitutto ricordiamo quando ci fu questa prima forma di governo e che cosa vuol dire. La parola monarchia deriva dalla parola monos, che vuol dire uno. Quindi monarchia e archia è potere, quindi il potere è di uno. E quando c'è un monarca, quindi un re, si parla di regno o di monarchia. Che aspetti ha avuto la monarchia a Roma? Innanzitutto non è durata a lungo, per essere un periodo storico, è durata soltanto 244 anni. Infatti si va dalla fondazione di Roma, quindi dall'anno 753 avanti Cristo, avanti Cristo, fino alla cacciata dell'ultimo re, per cui il superbo, che ci fu nel 509 avanti Cristo. Quindi, calcolando dal 753 avanti Cristo al 509 avanti Cristo, potete farlo anche voi, trovate che la monarchia a Roma è durata soltanto 244 anni. Sono due secoli e mezzo circa, in cui ci sono succeduti diversi re. La storia ce ne riporta però soltanto sette, ecco qua, vedete, soltanto sette re. In realtà, questi re probabilmente sono stati il numero maggiore, ma sette sono quelli che la storia ci riporta, quindi delle fonti storiche ci riportano, probabilmente perché ognuno di loro ha portato una novità a Roma. Quali poteri avevano il re a Roma? Innanzitutto il re era un'autorità importantissima, che aveva nelle sue mani ben quattro poteri, quindi poteva decidere pressoché tutto ciò che riguardava la vita pubblica. Aveva il potere di stabilire leggi, il famoso potere legislativo, potere di scrivere le leggi, poi aveva il potere di guidare l'esercito, quindi aveva il potere militare, era anche la massima autorità religiosa, quindi aveva il potere religioso, e infine amministrava la giustizia, quindi aveva anche il potere giudiziale, quindi ben quattro poteri, potere legislativo, potere militare, potere religioso e potere giudiziario. Capite benissimo che una persona che aveva un potere così grande andava in qualche modo in vita, altrimenti avrebbe potuto benissimo diventare un tiranno e non essere più un bravo re. Per aiutarlo c'era il senato. Il senato era un'assemblea formata dai capi delle famiglie più importanti, le famiglie importanti a Roma si chiamavano Patrizzi, erano le famiglie più ricche, quelle che avevano i terreni e i greggi. Quindi il re era aiutato dal senato. Senior, la parola senior, significava anziano. Non pensate che il senato fosse formato da persone molto anziane, perché all'epoca l'età era molto più breve di quella che si raggiunge ora, e quindi in senato gli anziani erano coloro che avevano più di 46 anni. Ora fa un po' il re chiamare anziani anche queste persone. Tuttavia all'epoca era così, quindi il re aveva questi quattro poteri e il senato doveva limitare, quindi supportare l'azione del re. Ed era questa assemblea dei capi delle famiglie. Oltre a controllarlo, avevano anche il compito di scegliere il nuovo re. Quindi ricordate bene che la carica di re non era una carica ereditaria. Cioè un re non faceva diventare re il proprio figlio, ma alla sua morte era il senato che decideva il nuovo re. Andiamo ora insieme a vedere quali sono stati i famosi sette re di Roma. Il numero sette per i romani è molto importante perché già sono sette i quali di Roma, in più sette sono stati i re di Roma. Andiamo a vedere insieme quali sono stati e perché è importante ricordarli. O comunque perché la storia ha fatto giungere i loro nomi fino a noi. Il primo è il famoso re leggendario che è Romolo. Perché è un re leggendario? Perché non si sa ancora bene se questo re sia esistito realmente, se questo era il suo nome e se la leggenda abbia effettivamente un fondo di verità. Ma noi l'ho passato alla storia comunque come il primo re. Romolo primo re. Romolo ha un'origine latina. Latina. Mi raccomando. I primi quattro re hanno, di questi sette, i primi quattro hanno origine latina o sabina. Mentre gli ultimi tre hanno origine etrusca. Come abbiamo visto quando abbiamo studiato gli etruschi. Quindi ricordatevi, i primi quattro latini e sabini, gli ultimi tre etruschi. Romolo ha un'origine latina. È il famoso re leggendario, abbiamo detto, che ha fondato Roma, praticamente. E altre leggende raccontano che sia stato supportato dagli dei, dal Dio Marte e che poi sia stato lui stesso trasformato in un Dio. Anche qui c'è qualcosa di molto leggendario. Non lo ricordiamo perché è stato il primo a sondarla e perché ha allargato la popolazione di Roma. C'è un'altra leggenda molto famosa che potete trovare nel vostro libro a pagina 80, che è il Ratto delle Sabine. Andiamo più velocemente a vederlo. è un racconto che ha sicuramente qualcosa di storico, ma anche qualcosa di leggendario. Ecco qua, il Ratto delle Sabine. Il Ratto delle Sabine è questo racconto, che ha anche appunto qualcosa di leggendario, che dice che un giorno Romolo, dovendo allargare la popolazione della sua città a Roma, decise di organizzare una grande festa e di invitare una popolazione che si chiamavano i Sabini, che abitavano in una zona molto vicina. Durante questa festa però i giovani romani rapirono le donne di Sabine e misero in fuga agli uomini. Dopodiché sposarono le donne di Sabine e naturalmente i Sabini tornarono per vendicare questo rapimento, questo Ratto. Ratto non vuol dire niente di diverso da un rapimento. È un rapimento. Tornarono per vendicarsi dei Romani, tuttavia trovarono le donne Sabine che supplicarono di non vendicarsi, perché loro ormai erano felici di questo matrimonio e si darono quindi questa incursione dei Sabini e questa incursione alla fine divente pacifica e si conclude con la fusione dei popoli dei Romani e dei Sabini. Molto probabilmente questa storia fu inventata, ma c'è qualcosa di vero, il fatto che quando si prendevano in sposa delle donne all'epoca c'era questa tradizione di simulare una specie di rapimento e poi c'era una grande festa. Quindi sicuramente ciò che possiamo ottenere di vero di questa storia è che durante il regno di Romolo, quindi durante il regno del primo re, ci fu un'espansione per la popolazione romana insieme ai Sabini e fu molto probabilmente un'espansione pacifica. Torniamo ai nostri sette re di Roma e dopo Romolo ci fu aspettiamo che carichi la pagina ecco qua andiamo al nostro secondo re di Roma che è Luma Pompilio Luma Pompilio ha un'origine Sabina quindi ricordatevi dopo il reato delle Sabine Luma Pompilio ha un'origine Sabina fu ricordato soprattutto per aver rafforzato il potere religioso innalzando ad esempio il Tempio di Giano e stabilendo cerimonie di culto quindi Luma Pompilio lo viene ricordato soprattutto per il suo potere religioso e aveva un'origine Sabina il terzo re è Tullo Ostilio la parola Ostilio ci può far venire in mente ostile e quindi ci possiamo ricordare che Tullo Ostilio fu un re guerriero in particolare la città di Alba Longa che era proprio quella della leggenda di Romolo e Remo e quindi allargò ancora di più i confini di Roma quindi lo possiamo ricordare per il suo temperamento ostile e guerriero il quarto re di Roma è Ancomazio di origine Sabina ho dimenticato di dire che Tullo Ostilio aveva origine latina quindi Romolo è latino Luma Pompilio è sabino Tullo Ostilio è latino Ancomazio è sabino si alternano di origine Sabina fu ricordato per la sua attività commensale il fatto che fu il primo probabilmente a costruire il primo ponte sul Tevere che era il ponte Sublicio un ponte all'epoca molto arcaico fatto di corde e di legno ma che permise l'attraversamento del Tevere quindi il collegamento con altri villaggi e altre popolazioni con cui i romani iniziarono a commerciare andiamo ora a vedere velocemente dove si trova il ponte Sublicio a Roma grazie al nostro Google Earth andiamo a cercare Ponte Sublicio a Roma eccolo qui il ponte Sublicio vedete oggi è un ponte molto più resistente di quello dell'epoca dove si trova ci interessa sapere soprattutto questo allora questa è la famosa isola Tiberina la prendiamo sempre come punto di riferimento questo è il colle Palatino il primo colle su cui è stata fondata Roma qua c'è il Coliseo lo vedete quindi il ponte Sublicio è vicino a tutta questa zona del colle Palatino vicino al luogo della prima fondazione di Roma ora torniamo al nostro libro quindi ricordiamoci i fila lo vedete con me Romolo Numa Pompilio Tullo Ostiglio Ancomalze sono i primi quattro re di Roma ora velocemente andiamo a vedere invece gli ultimi tre re di Roma che hanno un'origine etrusca Tarquinio Brisco Servio Tullio e Tarquinio Superbo Tarquinio Brisco Servio Tullio e Tarquinio Superbo Tarquinio Brisco Servio Tullio e Tarquinio Superbo l'importante è perché hanno adattato Roma le famosissime infrastrutture come il Tempio di Giove Capitolino il Circo Massimo che era praticamente uno spazio per divertimenti per le corse che è ancora oggi presente ci si fanno dei concerti il foro principale era la piastra dove si prendevano importanti decisioni politiche la croata massima era la prima rete di fognature ciò ci ricorda tantissimo l'importanza e lo sviluppo di questo tipo di infrastrutture già nella popolazione degli etruschi Servio Tullio fece costruire una grande cinta murale intorno a Roma Tarquinio Superbo fu l'ultimo re fu cazzato perché molto violento non rispettò i patti con il proprio popolo e quindi fu molto odiato dai romani e così anche cazzato e con lui ebbe fine la monachia e fu poi in seguito instaurata dal senato la Repubblica Romana Grazie mille Grazie mille